La crescita impietosa di Fratelli d'Italia alle urne sta producendo un effetto a catena in tutte le amministrazioni aretine che si rifanno al centro-destra. Dopo il gioco di anticipo di Silvia Chiasai per la presidenza della provincia, adesso è ufficialmente aperto il caso Cortona. Il partito del Premier non è rappresentato nella giunta della città etrusca e proprio dai vertici provinciali del partito è arrivato un input ben preciso al sindaco di Cortona Luciano Meoni. Il messaggio è chiaro, urge rimpasto con dentro un rappresentante del partito che esprime il Presidente del Consiglio e che è stato maggiormente votato dai cittadini anche alle ultime elezioni a Cortona. La cosa non è piaciuta al sindaco Meoni che in questi giorni ha grane amministrative da risolvere in loco e non di poco conto. La Commissione Bilancio per esempio è andata deserta perché non riesce a trovare la quadra per l'aumento di capitale della Cortona Sviluppo. La pari delle scelte da fare per la città del Natale che non trovano l'intesa tra i partiti della maggioranza di centrodestra. In giunta è debole la posizione della leghista Di Belardino ma Fratelli d'Italia eventualmente non ha donne da proporre in alternativa. Dei rumors i meloniani cercano maggiore visibilità e avrebbero messo nel piatto proprio la carica del vice sindaco attualmente ricoperta da Francesco Attesti che è espressione di futuro per Cortona. Addirittura sarebbe proprio il Presidente Provinciale Francesco Lucacci ad entrare in gioco. E qui il muro di Meoni è diventato una vera roccaforte simile al girifalco. La questione finirà sul tavolo regionale. In questa fase spicca il silenzio della Lega e l'attendismo di Forza Italia che sulla vicenda non hanno proferito verbo e parola.